Cosa sei diventata? Un cannone gigante? Sì, diventi un cannone, è praticamente... Cioè, andiamo in un angolino a fare un po' di esperienza e poi... Eh sì, vai in un angolino, vai! Ma mi stanno circondando, non vale! Il massimo è 20.000 e noi abbiamo 14.000, quindi ce la possiamo fare! Primi al primo video? Ce la possiamo fare! Ci stiamo illudendo! Vieni qua che mori, bello! Nel caso il titolo del video sarà primi al primo video! Se invece non vedete questo titolo, è andata come è andata, esatto! Ehi ragazzi, come va? Io sono Ferinichi! E io sono Steph! E che stagione giocheremo a Diep.io, non so come si chiama! Io lo so cosa stanno già pensando tutti! State pensando che dopo Slitterio sono usciti 2.000 di questi giochini browser? Ma questo ve lo vogliamo mostrare perché l'abbiamo trovato carinissimo! Sai che cosa ha di diverso rispetto... Ma dicono tutti così! No, 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 adesso ti devo spiegare! Rispetto agli altri giochi, noi siamo una pallina con un cannone in testa e anche qui dirai cosa c'è di diverso! La differenza è che facciamo dei livelli, quindi noi livelliamo... Ok! E con questi livelli guadagniamo dei punti e abilità che ci permettono di essere più potenti! Giocherò io perché sono un campione in questo gioco, Steph è molto scarso, io sono un campione! Cosa stai facendo? Mi rilasso, sono in vacanza, non devo fare nulla! Ma non mi devi supportare, questi ragazzi ci dà un botto di ex! E te l'hanno rubata! Io volevo far vedere le cose, mi ci stavo impegnando con questi quadratini gialli, invece facciamo l'ex! E come vedete, in basso a sinistra ho già dei livelli, io direi di potenziare subito il danno delle palline che sputtiamo, no? Ok, ok! Mi sembra una buona idea, giusto per fare più danni nel caso venissimo attaccati... Pallina blu, pallina blu! Uh, uh, non l'avevo vista! Non l'ha vista nessuno, prendi là! A livello 15, adesso tra poco lo raggiungiamo e lo vedete, possiamo migliorare la nostra pallina! Come vedete, guardate queste che sono giganti, guarda, stranavi! No, voglio quelli, voglio quelli! Ruba, 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 ruba! Non me lo puoi rubare! Ok, l'hai preso, l'hai preso, l'hai preso! Scappa! Ah, ah, aiuto! Vai verso l'alto, vai verso l'alto! Ma sto lenta, aspetta, devo potenziarmi i danni che gli spacco a tutti! Ma che spacchi! Mettiti un po' di alter regen, così rischiamo meno! Aspetta, l'ho preso! Sì, l'hai preso! Sì, sì, sì! Sì, allora, vi voglio far vedere subito questo, che l'ho provato stamattina, è una figata! Cosa sei diventata? Un cannone gigante? Sì, diventi un cannone! È praticamente... Sì! Non ci conviene sfidarlo, facciamo finta di nulla, ce ne andiamo in un angolino a fare un po' di esperienza e poi... Eh sì, vai in un angolino, vai! Ma mi stanno circondando, non vuole, non vuole! Si sta contenta che spiegava il gioco e guarda come la massa... Sì, ma allora... Ma questo che spara! A mia discolpa dico che è difficile spiegare e nello stesso tempo essere un pro in questo gioco, scusami! E allora ti faccio la telecronica, Sterinichi muore! Concentrati! Ok! Concentrati adesso, guarda, proprio... Prendo la potenza... Sai cosa, secondo me... Oddio! Scappa, prima di tutto! Meno male che non ti ha preso! La gente, secondo me, sta pensando, uff, che barba, oggi gioca a Ferinichi e non il grande sommo Steph! Non bisogna sopravvivere nella vita, ma schiacciare tutti, giusto? Questa è una massima che scriveranno nei diari di scuola, io te lo dico! Vedrai che la troverai nel... Spero che nessuno compri il tuo diario di scuola, allora! Sì, voglio il mio diario con le mie massime, ok! Aspetta, scriviamo queste, bravi! Allora, dammi qualche consiglio, cosa facciamo secondo te? Perché sto parlando solo io e tu non stai dicendo nulla! Ok, allora, vira a 65 gradi e nord-est! E qual è il nord-est e quali sono i 65 gradi? Ah, no, mi fa troppo danno! Scappa, scappa, scappa! Allora, no, pensiamo a potenziarci! Attenta perché c'è un tipo... Ma io ho l'elterogen! Questo che si chiama no! No, 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 allora, allora... Vedi perché si chiama no! Allora, lascia... Guarda, c'è quello più grosso di te, prenditela con lui, non prendertela con i più piccoli! Attenta, brava! Sì, non vale! Non vale! Bravissima! Potenziale l'elterogen, così recuperi un po' di vita più facilmente, bravissima! Allora, devo stare attenta perché la mappa è limitata! Ad esempio, se vai molto su al bordo, poi ti ritrovi incastrato! Sinistra, sinistra! Che c'è a sinistra? Arra! Arra, che bello! Uh, bello! E ti dicevo, mi è capitato un sacco di volte che andassi al bordo e mi incastrano e niente! Allora, io direi... È una storia poco avvincente! Ancora l'elterogen! No, 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 aiuto! Aiuto! Ti vuole morto, ti vuole morto! Io schivo! Oh, bellissimo! Quelle schivate! Schiva e spara, schiva e spara, così ti protegge un po' perché comunque se prendi i suoi colpi... Ma non sei brava! Mi aveva preso di mira! Ma perché fai gameplay quando mori soltanto? Spiegami! Perché è difficile! Non hai il cannone figo quanto quello degli altri? Vuoi provare? Ammettilo, sì! Vuoi provare? Sì, non posso provare! Allora, vediamo se riesci a fare il spacco la faccia! Sei pronto? Ora si ragiona! Questo è un vero nome! Altro che Steri e Nicky, ma cosa ce ne facciamo con i Steri e Nicky? Guarda! Guarda come sparo, hai visto la mira? Allora, questo è solo l'inizio, non è detto che poi... Vada bene, io comunque non ci sto andando a scrivere, ma quanto cavolo sei alto? Io devo stare abbassato, è scomodissimo! Mi sento in un trono, in un trono, vai! Ok, bravo, vedi, questo sì che... Sei ore dopo! Sei ore dopo! No, non rubate! Ok, ok, ok! Potenziati subito qualcosa, dai! Ma perché tu vuoi di movement speed? Vuoi essere più veloce? Sì, è una tattica! Siccome facciamo schifo all'inizio perché sei troppo scarso con i potenziamenti... Ok, ok, ti ascolto! Io schifo tutto! Ok! Ti piace? Sì, può aver senso perché io lo potenzio sempre all'ultimo, poi arrivi in qualche punto, come prima non sono riuscita a scappare, capito? Esatto, vedi? Quindi bisogna un po' ingegnarsi, picchia lì, picchia... Un po' di rettere, Jen! Guarda come si contendevano quell'ammasso di esperienza, chiamiamolo così, è una... Guarda, però vedi, vedi, guarda... Sì, schifio un sacco, è una figata! Guarda come faccio i balletti, ciao! Don't kill me! Non puoi colpirmi? Ma scusa, però, se tu ti metti a colpire gli altri non vale così, no, non va... Nooo, lo stavo per rubare quello... Beccato! Ok, allora, bisogna stare attenti... Prendi bene il tempismo! Preso! E ti prendi pure questo, devi prendere bene il tempismo, capito? Ok, 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 preso! Quelli non lo so, non sono ancora arrivata al livello di poter avere dei triangolini, ahia, che possono picchiare... Cioè, ma poi non ti lasciano in pace? No, non ti lasciano in pace, una volta penso che stiano a target... Mi sa che siamo arrivati al centro... Siamo vicino al centro, perché vicino al centro è pieno di queste... Di questi pentagoni, come si chiamano? Di questi ammassi di esperienza! Prendilo! Uh, bello! Attento, 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 qua ci sono quelli forti, devi stare attento perché qua ci sono quelli forti! No, no! Ok! Ti devi potenziare assolutamente, guarda quello... No, no! Ti ho detto di spostarti e di potenziarti, perché non mi ascolti? Sono uno stratega, non puoi non ascoltarmi! Ho visto la gloria, c'era... Ma che gloria! Guarda, cioè se disceggevo tutti questi, diventavo ricco! E quindi mi sono andato a prendere la mano! Ma non ci sei riuscito! Però io ho trovato... Ma non ci sei riuscito! Ti ho trovato la ricchezza, tu neanche la ricchezza avevi trovato! Oh mio Dio, sei entrato in classifica! Oh mio Dio! Tutto il mondo deve leggere Steph il Magnifico! È fighissimo, è fighissimo questo potenziamento! Mi piace un sacco, non l'avevo ancora provato, è fighissimo! Sparo da tutte le parti! Sparo da tutte le parti, sei velocissimo, è una figata! Allora, danni al massimo, colpi veloci e guarda adesso... Siamo fortissimi, siamo fortissimi, è una figata! Guarda, stai trovando un sacco di questi pentagoni celesti che ti danno un sacco di... Certo, perché... È una figata! Quando uno è bravo, tutto si avvicina a lui, capisci? Eh no... Quando uno è magnifico, anzi... Io ti ammazzo, guarda! Oggi fai una brutta fine, guarda, finisce il video e ti faccio fuori! Sì, ma non è colpa! Te lo dico già! Aspetta, 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 aspetta! Guarda, è fk, non sei accorto! Questo è fk! Questo è fk! Muori! Ce l'abbiamo fatta! Hai visto quanto ha pagato? Tipo due livelli! Sì, paga tantissimo uccidere gli altri giocatori! Per quello devi prima potenziarti e poi andare a spaccarli tutti! Allora, io direi che ci potenziamo ancora per bene e proviamo ad andare al centro! Scusa, in classifica siamo decimo, nono, ottavo, settimo in classifica! È buonissima! Parano tutti! Aiuto, guarda! No, ma tu li dovresti uccidere, questi sono più piccoli di te! Infatti, guardami! Dai, non puoi lasciarti sconfiggere da questi casi! Olè! Ok, ok, ok! Quale proviamo? Il primo, il primo, dai! Il primo, sembra fighissimo! Non ci credo! Vai, hai anche delle abilità! Prova a mettere... Bullet penetration! Ok, ok, così vanno ancora più in profondità i proiettili! No, vabbè, guardami! Ciao! È una figata, guardalo! Puntiamo questo poverino! Che ci piace di più questo browser game! È una figata! Cioè, guarda cosa puoi diventare! Bimbettino, vieni qua! Questo che è piccolo! È un cucciolotto, ho capito! Guarda quello sotto! Ciao! Ok, questo è 3.500, questo è 3.500! Proviamo da mano! Oddio! Aspettazione! No, no, no! Non morire! Ok? Non morire, ti prego! Dovresti rigenerare la vita, ce l'hai abbastanza! Sì, 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 vedi! Aiuto! Stiamo rigenerando! L'hai fatto prendere un infarto! Io te lo dico, ma hai fatto prendere un infarto! Ma lo vedi quello fermo a cercare di farlo? Devi rubargli quello! Devi rubarglielo! Ci provo! Devi farcela! Ci provo! Ci provo! Ti prego! No! Cavolo! Mancava un tanto così! Secondo me ci siamo andati vicini, eh! Mancava pochissimo! Cioè, c'è il tempismo c'era! Eravamo davvero vicini! Ci avrebbe dato una bella mano! Guarda, guarda, c'è un altro! Questo qua non ha l'intenzione di... No, 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 non capisco nulla! Allora, il nostro stesso potenziamento però ne è ancora di più, non si capisce niente! Io me ne vado, me ne vado in vacanza! Ok, bravo, bravo! Però... È complicato! Se tu guardi la classifica possiamo puntare ad arrivare quinti! E per essere il primo video, arrivare quinti non sarebbe male! Eh, assolutamente no! Infatti vedo che stai salendo di classifica, ok? Cioè, possiamo fare! Sì, 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 ma anche terzi, secondo me, guarda, ce la facciamo! Non puntare... Scusa, il terzo è a 20.000, non siamo troppo distanti! Uh, è morto! È morto? È morto il primo! È morto il primo! È morto il primo, addirittura! Il massimo è 20.000! Ok! E noi abbiamo 14.000, quindi ce la possiamo fare! Primi al primo video? Ce la possiamo fare! Ci stiamo illudendo! Uh, vieni qua che mori, bello! Nel caso il titolo del video sarà primi al primo video! Se invece non vedete questo titolo... Non ce l'abbiamo fatta! Esatto! Dai che ci possiamo almeno provare! Ci possiamo almeno provare! Vedi? Stiamo salendo! Siamo quinti? Uno, due... Perché c'è il secondo che non ha nome, mi sta confondendo, capito? Ok, sì, siamo quinti! Quinti? Ok! Siamo quinti e il primo è quasi a 21.000! Quindi non siamo troppo distanti! Devi fare esperienza come un cinese! Te lo dico, devi farmare il più possibile! Io sto sparando! Perché siamo anche a 40? Ci mancano solo 5 livelli! Eh, appunto! Quindi ti devi muovere, devi spammare! Non trovo più il centro! Ho detto che tu sei stato più bravo di me, guarda, non lo accetto! Ma lo sai come vanno queste cose, su! È solo perché hai avuto fortuna! No, ma perché ho il man... No, prendere colpi, ti prego! Ma io... No, 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 no! Questo fa più male! Fa malissimo! Stai attento! Perché poi non gli posso sparare? No, 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 no! Allora... Scappo, scappo! Allora... Calmati un attimino, aspetta di recuperare vita! Ascolta me che sono il tuo coach! Il tuo leccoce! Ok, dimmi, dimmi! Incaricami! Attento che poi ti distrugge qualcuno! Devi recuperare la vita! Ok! Perché non possiamo perdere! Non possiamo perdere! Stiamo... No, di nuovo! Ma chi è questo qua? Ma dobbiamo farci il suo potenziamento! Era al 30! Era l'ultimo potenziamento! Ti ricordi che aveva quelle cose in lati? Ed è il suo! È fortissimo! Ok, comunque ci fermiamo così! Fateci sapere, ragazzi, se volete vedere altri video! È troppo carino! E giocateci, ragazzi! Soprattutto perché è troppo divertente! Giocateci perché è fighissimo! A noi piace un sacco! Ne vorremmo fare uno in due! Però mi sa che ancora non è uscito il plugin per poter entrare nello stesso server! Spero che uscirà! Così magari la foto spam ti distrugge! Se mi faccio quel cannone che spara la palla gigante! In prossimo video facciamo che spara la palla gigante! Sarà una Civil War peggio di quella di Iron Man e Capitan America! Io ve lo dico! Come ogni cosa dove ci sei tu! Esatto! Beh ragazzi, il video finisce così! Se vi è vissuto, scendici un bel like! E se è la prima volta che vedete un nostro video, potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi! Ciao, alla prossima! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Grazie per la visione!